In un video dove c'è la mozione non parliamo più di spazzatura, chiariamo qual è la visione politica dell'attuale amministrazione che è quella di discontinuità assoluta di quello che è successo in passato e per favore evitiamo chi siede oggi nella maggioranza e in passato faceva parte della scorsa amministrazione, ricordiamo che il vecchio contratto tra deco di oggi è stato sottoscritto quando i signori che oggi sedono con noi erano all'opposizione e oggi contestano come me, non condividevano quello che è stato fatto. Grazie